Sacrificio. Devi scegliere il tuo dannatissimo sacrificio. È così, non puoi non farlo. Sacrificherai che tu lo voglia o no. Di questo parla la storia di Peter Pan, grosso modo. Peter Pan è questo ragazzino magico. Pan è la divinità della natura, di tutte le cose, e non è un caso che il suo nome sia questo. È il ragazzino magico che non cresce. È magico, come sono magici tutti i bambini che sognano di fare ogni cosa, di essere ogni cosa. Pan, tutto. Non sono altro che puro potenziale. E Peter Pan non vuole rinunciarvi. Perché? Beh, ha degli adulti vicino, il primo dei quali è Capitano Uncino. E chi diamine vorrebbe crescere per assomigliare a Capitano Uncino. Primo, avresti un uncino al posto della mano. Secondo, saresti un tiranno. E terzo, saresti inseguito da un drago del caos, con una sveglia in pancia, il coccodrillo, che già possiede un pezzo di te. È ciò che accade quando invecchi. Il tempo ti ha già assaggiato. Gli piaci moltissimo, e presto o tardi ti divorerà tutto quanto. Uncino è così traumatizzato da questo che non può fare a meno di essere un tiranno. Peter Pan ha un cino sotto gli occhi e pensa, di certo non sacrificherò la mia giovinezza per questo. E va bene, ma comunque finisce per diventare il re dei bambini perduti, sull'isola che non c'è, un posto inesistente. E chi vorrebbe essere il re dei bambini sperduti in un posto che non esiste? Peter Pan sta anche sacrificando la possibilità di avere una relazione reale con una donna, Wendy, conservatrice della media borghesia londinese. Lei vuole crescere, avere una famiglia, dei figli, una vita sociale. Lei accetta la crescita, la maturazione, la mortalità. Peter Pan deve scegliere tra lei e Trilly Campanellino, che nemmeno esiste. È una sorta di fatina del porno. Non esiste, non c'è, è un rimpiazzo della realtà. Ma la scelta è comunque complicata, perché c'è un elemento sacrificale nella maturazione. Devi sacrificare la pluralità potenziale dell'infanzia per la realtà attuale di una cornice. E se ti chiedi, beh, perché dovrei farlo, la risposta è semplice. Accadrà comunque, che tu lo voglia o no. Puoi al massimo scegliere la tua dannata limitazione. Oppure ritrovartela addosso inconsapevolmente a 30 anni. O peggio ancora, a 40 anni. E quello non sarà un giorno molto felice. Ho a che fare con persone del genere molto spesso. È molto comune nella nostra attuale civiltà, dove le persone possono smettere di maturare senza pagare un prezzo nell'immediato. Ma questo prezzo aumenta, e quando arriva il conto è molto salato. Quando hai 25 anni puoi ancora fare idiozie, sei in cerca di un lavoro, non hai esperienze. Gli errori sono tollerati, sei giovane e pieno di potenziale inespresso, non c'è problema. Ma se sei lo stesso tipo di persona a 30 anni, la gente non è più così contenta di te a questo punto. E si chiede, cosa diavolo hai fatto negli ultimi 10 anni? Ma sapete, non ne ho ancora idea, come quando avevo 22 anni. Sì, ok, ma non hai più 22 anni. Sei un vecchio bamboccione, e questo non è affatto un bello spettacolo. Ecco perché tu devi sceglierti il tuo dannato sacrificio, perché il sacrificio è inevitabile. Ma almeno sarai tu ad averlo scelto. E c'è qualcosa di ancora più complesso di questo. Il problema nell'essere un bambino è che tutto ciò che sei è potenziale. Una visione a bassissima risoluzione. Potresti essere tutto, ma di fatto non sei ancora niente. Ecco perché arriva il momento di prepararsi attraverso un apprendistato. In soldoni, almeno sei diventato qualcosa. E quando sei qualcosa, il mondo torna a spalancarsi davanti a te. Se sei un idraulico eccellente, sarai molto più di un idraulico. Diventerai un bravo datore di lavoro. Non sto parlando male degli idraulici, anzi, lunga vita agli idraulici. Salvano più vite dei dottori. Se sei un idraulico competente, espanderai il tuo business, avrai degli impiegati, insegnerai ad altri, migliorerai le loro vite, sarai una colonna portante della società, avrai una tua famiglia. Una volta passato attraverso il passaggio stretto del periodo di apprendistato, che ti costringe, ti vincola, ti limita e ti sviluppa allo stesso tempo, quando l'hai superato, ti affacci su un mondo di ulteriori nuove possibilità. Jung ha parlato di questo, quando afferma che il corretto processo di sviluppo prevede nella seconda parte della vita una riscoperta del bambino che abbiamo lasciato indietro quando eravamo troppo impegnati nell'apprendistato. Bisogna essere qualcosa, ma anche riappropriarsi di quel potenziale allargato. E questa è un'idea brillante. Jung era molto brillante e molto saggio. E quindi sacrificio. Devi scegliere il tuo dannato sacrificio. È tutto. Non ti è concesso di non farlo. Sacrificherai qualcosa comunque che tu lo voglia o no. Renditene conto quanto prima. Grazie a tutti.